Ciao a tutti, sono Giacomo Uvini, il director di Contemporary Cluster, dove ci troviamo in questo momento. Lo spazio è in piede per bene il numero 7 e arriviamo il 25 novembre della nuova stagione. Contemporary Cluster è un progetto basato sulla coparticazione progettuale di tutti i settori del contemporaneo, quindi arte, moda, sound, design e design olfattivo. In questo spazio, in più piani, avremo dei piani dedicati agli spazi commerciali dei vari settori e l'ultimo piano è quello in cui ci troviamo atto esclusivamente ai progetti espositi di arte visiva e di industria progettuale. Troveremo anche un workshop del mondo dell'editoria indipendente e del vinile, un bar semplice alle 11 di mattina a mezzanotte, ovviamente tutti i giorni, martedì e domenica, e degli spazi dove le persone potranno poter venire per passare del tempo, sia a livello progettuale, lavorativo indipendente, e avere appunto in contatto con tutte quelle che sono le proposte dello spazio, sia a livello espositivo che commerciale. Grazie. Grazie.